Vincere aiuta a vincere, uno dei moti più utilizzati ma anche veritieri nel mondo del calcio, che si parli di massima serie o di dilettanti, la questione non cambia. L'Avelino sembra averci preso gusto, la vittoria di ieri contro la Fidelisandria regala maggiori certezze al gruppo di Mr. Rastelli perché le difficoltà del match sono rimaste nascoste fino al post-gara, quando lo stesso trainer ha ammesso di aver affrontato una delle settimane più difficili da quando è tornato sullo scranno bianco-verde, per via degli infortuni, dei numerosi acciacchi che si sono presentati. Casarini e Russo, due elementi fondamentali in questo periodo, hanno dovuto fare i conti con la febbre, così come Garetto rimasto ai box, defezioni che si sono andate ad aggiungere a quelle di Dall'Oglio, Ricciardi e Mikowski con un digaudio appena rientrato e non in condizioni ottimali. A volte però bastano i tre punti, non che la prestazione sia stata insufficiente, anzi l'Avelino avrebbe potuto chiudere i conti per due o tre volte dopo il gol di Gambale che ha aperto le danze. E' mancato un pizzico di cinismo che può portare a qualche rischio nel finale, ma ci sta. Questo gruppo ha imparato a soffrire insieme e il finale contro la Fidelisandria, seppur non drammatico, ha consegnato ancora più forza ad una squadra che è diventato gruppo vero. Un gol subito nelle ultime quattro partite, otto gol fatti e 23 punti che riportano finalmente l'Avelino in zona playoff, per dare respiro ad una stagione travagliata che potrà solamente migliorare con i risultati e con il mercato di gennaio. Domenica alle 12.30 si gioca in casa del Monterosi, oggi però l'Avelino si gode vittoria e soprattutto il compleanno, 110 candeline e qui la festa.